Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l'unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia. Una risposta che non fa troppi calcoli, ma esige un'equa divisione delle responsabilità, un'onesta e sincera valutazione delle alternative e una gestione oculata. Francesco, cinque anni dopo la sua visita a Lampedusa, la prima del suo pontificato, celebra una messa nella Basilica di San Pietro, con 200 fra rifugiati sopravvissuti al viaggio verso l'Europa, esponenti dei loro soccorritori nel Mediterraneo, al quale ha espresso gratitudine, quali odierno esempio del buon samaritano, e rappresentanti delle organizzazioni che ora li assistono. Nell'Omelia il Papa ha sottolineato come le risposte all'appello che fece allora, anche se generose, non sono state sufficienti e ci troviamo oggi a piangere migliaia di morti. Dovrei parlare di molti silenzi, il silenzio del senso comune, il silenzio del si è fatto sempre così, il silenzio del noi sempre contrapposto al voi. Alla luce di tutto questo il Papa richiama le coscienze di tutti di fronte a quanto accade nel Mediterraneo e non solo. Quanti poveri oggi sono calpestati, quanti piccoli vengono sterminati, sono tutti vittime di quella cultura dello scarto che più volte è stata denunciata.